Ciao frate, dal titolo avete letto stagista. La cosa brutta è che la media dei miei fan è di 12 mesi e quindi non sapete cosa sono gli stagisti. Gli stagisti sono in pratica delle person che ti postano in azienda lavorare giusto per vedere come funziona il tutto. Nessuno. Oddio ma qua ce ne stanno. Tra la mia scuola c'è il progetto alternanza scuola lavoro e quindi tipo io vado a lavorare in questa azienda ovviamente gratis per tipo due settimane. C'è giubbotti ma dai. Quindi per due settimane io starò in azienda a lavorare con un cane già tipo stamattina ho iniziato a lavorare a fare qualcosa e tipo mi hanno distrutto. Perché poi vabbè stamattina per voi è lunedisco, cioè lunedì. Quindi ho iniziato a lavorare in questa azienda e mi stanno facendo sgobbare come un cane. Ma nonostante io sia in azienda non pensate che non vi porterò video perché comunque ve ne porterò, cercherò di registrare nella pausa pranzo. Come tra l'altro sto facendo adesso. Facciati. Ehm, stai facendo ma mi ha ucciso. Ma nonostante io sia in azienda posso comunque portarvi video e voi starete dicendo ok gioco va bene però questo video può durare un minuto ed è fida qua. E invece no amiconi perché semplicemente... Oddio cosa c'era? Perché semplicemente dopo queste due settimane di alternanza al lavoro e quindi vado a lavorare per due settimane sarò una settimana ragazzi a Dublino. Una settimana a Dublino con la mia classe e penso che lì ci spaccheremo a merda. Però il problema è che comunque dovrò portarvi video da lasciare sul canale quindi penso che in sto periodo registrano un sacco di video. Comunque ragazzi vi consiglio di seguirmi sulla pagina Facebook perché sulla pagina Facebook penso che caricherò qualche video tipo vlog col telefono che ovviamente caricherò sulla pagina Facebook giusto per far vedere che sono comunque vivo a Dublino. Sperando che nelle famiglie dove andremo perché ovviamente non andremo in hotel ci sia il wifi. Oddio che cazzo è? È Hit Market tra l'altro. Però comunque farò un after movie. Cos'è un after movie? Perché non lo sapesse. È un video tipo di 3-4 minuti con una canzone sotto. Dove faccio vedere la mia esperienza qua a Dublino. Qua a Dublino. Oddio là a Dublino. Quindi registrerò tutto tipo il volo, fino al pullman arrivare all'aeroporto. Tutte queste cazzatine qua. Il video che tipo fanno quelli di me la godo oppure quello che ho fatto Zoda quando è andato a Londra. Però non so se fare un video diario. Quindi un video dove parlo addirittura sotto. Per tipo quella dura un po' di più tra i 7 e gli 8 minuti. Oppure semplicemente come avevo detto prima un semplice after movie. Semplice oddio un after movie. Oddio. No, potevo fare code. E tra l'altro code di XPR è tipo qua cagarissima però. Oddio. Code split. È nulla. Che palle. No, che maiale. È come un maiale sei. È quindi nulla raga. Durante la mia posa da pranzo io sto facendo i video per voi. Tra l'altro dovrò farne tantissime anche per quando sarò a Dublino. Quindi ve ne porterò due a settimana quando sarò a Dublino. Che è la settimana dall'1 all'8 di marzo. E poi si ricomincerà ovviamente con la classica routine. Ma penso che non è che sto stravolgendo tantissime cose. E nulla ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Soprattutto anche il format che spesso sto facendo questo video. Ci vediamo al prossimo video. Sempre se non muoio prima. Speriamo di no. Bello.